Thank you so much for your time Mr President Ma vuoi dell'acqua e zenzero? 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 Ma incolcol con il presidente Ma in mutande non ti metti neanche i pantaloni? Ma io non lo so Ha fatto tutto eh! Shhhh! E' incolcol con il presidente Comunque ho arraziato tutte le piante e poi ho preso i due saccoli che c'erano dietro buttati via Ma quelli con i tappi di plastica? Eh! L'ho buttati nella plastica Hai buttato i tappi di plastica? Ma sono due anni che lui... Dimmelo! Dimmelo! Sono due anni che te lo dico ma tu non mi ascolti! Ma cosa te ne fai con i tappi di plastica? Faccio del bene! Con i tappi di plastica faccio del bene! Del bene cosa? Si può comprare un'ambulanza! Ma un'ambulanza con i tappi di plastica? Si con i tappi di plastica si può comprare l'ambulanza! Ma non farmi ridere! E tu ci puoi comprare l'ambulanza con i tappi di plastica? Ma ma... Piedi dal presidente! Piedi dal presidente! No! Si può comprare l'ambulanza con i tappi di plastica! Basta! Lei sta sempre dalla parte del padre!